Soprattutto grande carica di voler iniziare bene di fronte al nostro pubblico. Non è mai facile, la prima di campionato è tutto nuovo ed è sicuramente un buon banco di prova per noi e che vogliamo continuare il buon percorso iniziato durante la pre-season. Quindi ci stiamo preparando al massimo, speriamo che i tifosi arrivino numerosi, ne siamo certi della verità, quindi non possiamo permetterci di sbagliare. La Tina è una squadra pericolosa, ha degli italiani di categoria che possono fare la differenza e gli americani che possono essere delle grandi sorprese in questo campionato. Bisogna stare attenti, è guidato da un allenatore esperto quindi verranno qui sicuramente carichi per fare un colpaccio, per iniziare bene il campionato. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo farci trovare pronti.